Allora, so che dovrei aspettare, poiché non ho neanche Rinne, però voglio troppo crankare. Voglio veramente troppo crankare. Ah, che bonus! Questo Zeta che hanno messo vecchio. Eccolo! Ah no! Ah, sei rischioso! Lui non ce l'ha. Ma tanto noi dureremo sia Rinne sia lo Zeta. Dunque cranko una qua e una nel secondo. Facciamo due di crank. Andiamo. Dai, non è neanche il rate up. E vai, sprechiamo 4.500. Ti prego, gioco. Con questo stiamo a quota 10 crank, 10 multi summon. Una, due, tre, quattro. Non dico come la scorsa volta che ce ne entrano due di Zeta perché altrimenti vuole un S. Rango S, vieni qua, rango S. Che cazzo è? Ma porca, puttaneva. Spoilerina. Ma seriamente, spoilerina. Dai. Madonna. No, rega, ma è un troll. È un troll enorme. Ho trovato tutti i ranghi S nuovi. Ma come diavolo è possibile che mi mancano tutti questi ranghi S? Tutto è un ranghi S. È inutile. Ma... Ma... Ma io... Ah, diretto, così. Eh, grazie. Sì, l'accetto, l'accetto. Non lo schifo, non lo schifo. Oddio. Per me l'ho proprio rassegnato. Sì. Posso finire l'evento, sì. Sì. Grazie, gioco. Grazie. Grazie, ogni tanto mi vuoi bene. Mamma mia. Grazie. Che bel team ora che ci abbiamo. Quindi questo è per il triple S. al posto di... Non lo so. Rinne no. Dai, non voglio levare Rinne. Dai, va. Sì. Gioco, grazie. Ti ringrazio. Mamma mia. Era troppo bello. Considate, avrei rosicato tipo troppo se non l'avessi preso. Che è uno dei miei Rinne preferiti. favoriti preferiti. Magari i favoriti lo capiscono anche gli altri. Vabbè, io comunque nel dubbio, visto che ve l'ho detto, vado a crancare nel... nel secondo. Perché voglio quello Z. Troppo bello. Non ce l'ho mai avuto, non l'ho mai preso. Ora crasha. Ok, no, grazie a voi. Di non crashare. Comunque avete visto che hanno messo molti più bonus. Cioè, io non so voi, ma... facevo senza Rinne 7.000, non vorrei ne... Pam, 12.000. Fai se lo farò. Super. Guardate che levo questo, però magari mi arriva l'audio. Adesso c'è l'audio, ho sparato. Bestia. Sì, ovviamente mi aiuto, io... Altrimenti... Sì, vabbè, non è troppo buono. Qua. Pam, pam. Ok. Vabbè, facciamo un altro di multi-summon. Io vi prego basta slingshot, perché altrimenti non so veramente come farle. Gioco, ti prego, basta. Basta. Vabbè, sono troppo felice. Mi puoi dare anche fullato di ranghi S. Due Bia dorate, vai. Un Rinne. Bello. Wow. Bia dorate mi dà un rango A. Complimenti. Comunque ho ormai 4... Di nuovo te. Non ti fai schifo, non ti ne vai. Ho tipo 4 barra 5 pass da utilizzare nel primo, che praticamente sono tutti nuovi, quindi ciò che non li ho, sono tipo spoilerina. L'abbiamo preso ora. Poi ce ne stavano altri due dello scorso evento. Dio figo. Lui è un evento vecchissimo. Bello. No, bello per davvero. QB Rana mi piaceva il tempo. Vabbè, mi sembra abbastanza povera. Ecco, eh. Ho detto povera. Si è triggerato il gioco. Si è triggerato, si è triggerato. Mi ha comunque dato trash. Non è niente di... Di utile. Beh, sono troppo contento, vai. Dai, questi due ranghi A. Wow, 1 B. E... Qua è comunque il secondo account. Forse anche lui, che tanto è inutile. Faccio vedere anche il terzo. Che avevo fatto il video, ma non l'ho pubblicato, perché tanto era senza voce, era un video così. Eppure lo pubblico, perché avevo anche crancato dieci monete come back. Come back, come l'ho detto. Vabbè, no, nel dubbio. Tanto è sempre Rin, vedete. Bellissimo. L'ho pure maxato su quell'account, perché ero pieno di segreti. Quelli che ti riempiono un livello Energimax. Avevo tipo 4. Non so neanche io come. Ho fatto 4. Ma dove sono entrato? Speed account, vero? Speed account. Top. Vabbè, già ci siamo. Eccolo qua. Bello Rin, maxato. Infatti io avevo, praticamente, pensavo di fare l'evento con lui. Infatti, dove stanno? I succhi. Ho 6 succhi. 6. Prendetevi conto su un secondo account. E poi, vabbè. Allora, lo proviamo subito. Tanto mi sa che volevo far spawnare un WS. Mamma mia, che bello che l'ho trovato. Oddio, non potete capire la felicità. Non è che lo volevo di più. Intanto si è anche riempita la barra. Oddio, così non devono anche fermare. Grazie, gioco. Grazie. Grazie, davvero, grazie. Mi siamo sbiato Tim, comunque. Ho messo quello per... Vabbè, tanto non è la cosa. Sì, ora, se spawnerà prima, lo facciamo. Altrimenti mi sa che il video sarà finito prima. Così, senza nulla. Comunque non ho mai provato questo yokai. Cosa che sta? Senta il popper, guarda. No, ma che è davvero. Oddio, che schifo. Oh mio Dio, che schifo. No, vabbè. Cioè, tu sei un triple S. Ma non ti vergogni. È un pochino più figo tra questo Rinne. Appena sprovato. E vediamo se riesco a capire che sono le stesse. Ah, qual è la passiva di questo qua? Ancora non la sa? Perché vi giuro lo amo. Questo Rinne è tipo come l'aspetto uno dei migliori yokai. Vabbè, lì è l'uno, quindi manco la qualsiasi ho dato. Lui fa schifo. No, come 30 a 2.000. Con due booster, quando cercò di formare conti, mi piacevi 100.000. Mi stavo sbagliato a fare io qualcosa. Comunque è bellissimo. Vabbè, se ora hai spawnato il... Il tizio lo facciamo, altrimenti chiudo. Perché non so che dovrebbe essere già 10 minuti. Ma invece avete avuto fortuna. Così vi faccio vedere quanto si farma. No, ma ho sbagliato. Ok, non lo so. Sono un credino. L'ho sbagliato per la sfida. Uh, che bello. Ora abbiamo anche la monetina. Dai, dopo lo faccio a quel livello. Così me lo sblocchiamo anche la monetina. E andiamo qua. Numero 10. Il livello 1. Toglierà tipo 200. Però sì, per fortuna. Così almeno sono 100% sicuro di finire l'evento. Non so che copertina avrò messo. Mi sa che ho messo proprio sparato Rinne che l'abbiamo subito trovato. Oppure vi avevo lasciato la suspense. Perché scrive tipo, abbiamo trovato uno Z. Però chissà quale Z abbiamo trovato. Vabbè, comunque guardate anche i danni che faccio con questi altri. Che hanno bonus, che hanno dato bonus. Cioè qualcosa di 500. Questo qua è tipo 1000. 1120. Perché è una delle uniche slingshot che riesco a fare un full team tutti col bonus. E ora Rinne. Mamma mia che potenza. 600. Ok, è disgustoso. Però va bene così, dai. Devo potenziarlo. Ora, domani già è maxato. G-Gilicator. Mi ne dico G-Gilicator. Neanche ho fatto perfect, sinceramente. Vabbè, 1500. E poi c'è Noko. Così, arriva. E io vi farei notare l'ammontare i danni. Cioè fa più danni di Nevaria. Già con 900 parte. Non fa più danni di Nevaria, però... 2500, ok? Che c'era anche la sfida, ma... Regà, io ho tolto... Praticamente 8000. Con lui a livello 1. E livello 1 di Energimax. Ah... Ora devo avere 2000 punti per sbloccare il livello 60, però... Che pizza. Vabbè, 8000. Ma va benissimo. Di lusso. Di lusso, regà. Ah, aggiornamento. Io senza coittare mai un SSS. In 43 SS ne ho trovati 5. 5. 5. Cioè... Va bene, gioco. Grazie. Mi sa che riuscirò anche a fare la perla. Va bene, dai. Ora mi ci metto. Ho ancora da prendere il succo. E da fare questo qua. Come ho ancora da fare questo? Cavolo. Non ho aiutato nessuno. Va bene. E niente. Ora mi sa che lo pubblico tipo diretto. Infatti tra 5 minuti già lo vedrete online. E belli.